Tornano a Cremone i funerali di povertà che i servizi sociali del Comune garantiscono a proprie spese alle famiglie e i single in stato di indigenza. È forse il caso estremo di mancanza di risorse, nella quale le vittime della crisi economica non riescono nemmeno, con i loro risparmi, a pagarsi le esequie. Almeno un ultimo dignitoso saluto dunque, con una bara anche senza zinco, ma con i fiori che talvolta offre la stessa impresa funebre. Se il prezzo di un funerale può girarsi sui 3.000 euro, a Cremone il Comune affida il servizio in base a una gara che quest'anno non si è ancora svolta. Si sono presentate due emergenze, due morti nel mese di marzo. Ha provveduto la giudicatario del servizio del 2015, un'impresa funebre di Corte dei Frati, per 900 euro. Di funerali di povertà il Comune non succedeva forse da un anno. La crisi continua spietata, la miseria più nera continua a segnare vite vissute a Cremona, al di fuori degli splendori della ripresa economica, tanto vagheggiata e proclamata da alcuni mesi, e poi di nuovo smentita dagli altri e dalle motivazioni di spesa della direttrice delle politiche sociali del Comune, Eugenia Grossi, continuamente pressata dall'esigenza di interventi sugli utenti più diversi, dato che ai servizi sociali si rivolgono non solo anziani e disabili, ma ormai anche lavoratori rimasti disoccupati, anche autonomi e persino giovani di 20 anni. A Cremona ci sono famiglie che non possono permettersi di pagare il ticket dei farmaci e le visite specialistiche, e nemmeno gli alimenti, chi invece non riesce a pagare le bollette della luce, del gas, l'affitto, chi perde per morosità persino la casa popolare. Stanno lievitando anche le spese per l'affitto dei minori, con una seconda tranche di spesa annua in marzo di 15.000 euro. E continuano ancora i funerali di povertà a carico dell'amministrazione comunale, il segnale di un fallimento di un sistema che non include tutti.